È un appuntamento tradizionale, quello con il calendario storico dei Carabinieri, che quest'anno si focalizza su delle storie talmente belle che non sembrano vere. Sì, assolutamente. Sono storie molto significative, raccontate dalla penna rapida e arguta di Massimo Gramellini, illustrate da Studio Pininfarina, quindi due firme assolutamente note nel panorama nazionale, ma anche internazionale e che non hanno bisogno di grandi presentazioni, che hanno prestato la loro opera per trovare quel filo rosso che unisce tutte queste storie talmente belle da sembrare inventate, frutto di fantasia, ma in realtà assolutamente tratte dal quotidiano operare dei Carabinieri, che nel loro agire riescono qualche volta a mettere quella punta di bello in più a una storia che potrebbe essere invece semplicemente un fatto di cronaca o un evento triste. Ad accompagnare il calendario storico ci sono anche gli altri prodotti editoriali dei Carabinieri, i cui incassi vengono devoluti sempre in beneficenza, ma quest'anno ci si può anche vantare che c'è qualcosa di spezzino tra questi prodotti. Assolutamente sì, i prodotti editoriali portano un beneficio a strutture come ospedali pediatrici in giro per l'Italia e all'associazione degli orfani e dei militari dell'arma dei Carabinieri. Quest'anno un prodotto editoriali, il calendario da tavolo, che illustra una serie di borghi molto belli e molto caratteristici dell'Italia, nel mese di agosto riporta uno scorcio della nostra framura, della costa spezzina, ma questa cosa ci fa particolarmente piacere, ci inorgoglisce. Questi prodotti entrano sempre di più nelle case degli italiani, tant'è che la tiratura del calendario storico è arrivata a più di un milione e duecentomila copri. Sì, oramai è diventata una tradizione, tutti i nostri familiari lo attendono con ansia, i collezionisti lo attendono con ansia, e è uno strumento per risaldare ancora di più i vincoli di affetto e vicinanza che lega l'arma dei Carabinieri alla popolazione italiana. Un milione e duecentomila copie in molte lingue diverse, oltre all'inglese molto diffuso, ma anche il cinese, l'arabo, fino al sardo e al friulano.